Ciao creatura, io sono ecco a te splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR, ciao, mi vedi? E' rispecchiata, oggi facciamo una nuova puntata di una nuova serie come al solito e voglio provare questa app con te che si chiama Decisioni, scegli la tua storia interattiva, vabbè 2019 l'ho appena scaricata e quindi andiamo a provarla insieme, non dirmi che è in verticale perché ho settato tutta l'inquadratura in orizzontale, perfetto. Sta in verticale quindi ho cambiato l'inquadratura, ecco. Allora, benvenuta su Decisions, vabbè trovi a essere Decisioni, è un'applicazione, un visual novel e dove ci scelgono, in base alle scelte, la storia cambia, quindi andremo a vivere queste magiche, non sono magiche, per lo più da quello che ho capito sono trash e amorose, dramma, cose così, e quindi andiamo a sceglierne una. Allora abbiamo Crisi Bebè, le più popolari, dramma, storia, le più, vabbè tradotto male, regina di cuori, le più popolari, romanticismo, storia, andrei dai con regina di cuori. Ho passato perché non so se partiva della musica, allora possiamo scegliere il nostro personaggio, ogni tanto appare della pubblicità, ma non facciamoci caso. Allora, c'è questo vestito qui, ok, questo qui, poi c'è Hot, però bisogna acquistarlo, noi abbiamo 150 monete, ok, poi c'è Perfect, wow, e costa, quanto costa? 150 monete, acquista con 150 monete, guarda il video, e questo invece veniva a 100 monete, oppure è free, se guardiamo il video. Vabbè, intanto se c'è la pubblicità poi taglierò, intanto teniamo il vestito normale, capelli, allora ci sono questi, ci sono biondi con la coda, oppure un po' più lunghi, marroni, basta, non ci sono verdi, accidenti, allora mi piacciono biondi, viso, faccia, bianca che è questa, un po' più scura e un po' molto più scura direi, bianca, anche se mi sarebbe piaciuto molto più bianca, ma non c'è, va bene, ok, nome, Sofia, non ci piace, Antonia, la mettiamo Antonia, perché ce la mette da, da ieri questo nome, grazie a Michael, Antonia, ok, ok, regina di cuori, va bene, let's go, partiamo, Antonio, non ti piace il nome Antonia, cambiamo, mettiamo un creatore, no, Antonia fa ridere, via, ok, lavori al bar locale, il tuo turno è quasi finito, questo turno non finisce più, la vicina deve far casino adesso, mi pare ovvio, fissi l'orologio desiderando che le lancette si muovano più velocemente, la tua noia viene interrotta dalla tua migliore amica che entra nel bar, getta via il crembiule e viene dritta verso di te, accidenti, sono felice di rivederti, mi hai tolto le parole di bocca, Alicia, Alicia forse, Alicia, come sta la cameriera di corte oggi? Oh, non chiedermelo, lascia perdere, in tutta onestà, se la bocca non era tanto buona, avrei mollato, scambierei volentieri il mio lavoro col tuo, non farti sentire dal tuo capo, ah, allora quali sono gli ultimi pettegolessi al castello? Questa Antonia ti piacerà un sacco, c'è una incoronazione reale a breve, è la regina aptica, non è così vecchia, perché è ammollato, pensionamento anticipato, molto, non ha scelta, eh, ma i reali non possono fare quello che vogliono, credevo che le cose andassero così, scusa per il rumore della vicina, I reali di Shallow Silver devono abdiccare dopo vent'anni, che liberazione, che tristessa, che liberazione, ah, che liberazione, hai fuori gli artigli, beh, con quella vecchia megera fuori dai piedi, forse le cose diventeranno un po' più moderne qui intorno, una ragazza può sognare, immagino, vuol dire che ci tocca un re? Sì, il principe John, John Aton, come, non è John Aton, è John Aton, che fruttano, è il prossimo in linea di successione, credevo fosse il secondo genito, sì, anche io, Giuro di aver sentito che avevo un fratello, ma non l'ho mai visto, scusa, mi sono accorta che le giungo velocissimamente, strano, comunque sia, ci sarà un ballo reale, davvero, esiste una cosa del genere? Certo che esiste, tutte le damicelle reali, devono competere, per la mano del principe, continuo a sognare, è una seccatura, è una seccatura, la faccio simile a me, sembra una seccatura, puoi dirlo forte, almeno non sei costretta a partecipare, pulirai argenteria per settimane, in preparazione all'evento, il mio lavoro è un sogno, comunque, usciamo da qui, il mio turno finisce fra dieci minuti, in questo caso, prendo del te, è un dolce, d'accordo, ma questa volta, paghi, il cibo gratis, era uno dei vantaggi, nell'averti a lavorare qui, non hai ancora capito, non ci sono vantaggi, a lavorare qui, vedi, sposare un principe, e vivere una vita nel lusso, sarebbe utile, in questo momento, ah, dov'è la nostra fatomadrina, quando ci serve, ho sentito, che non lavora, il fine settimana, battutona, fine settimana, la gente ha questi benefici, wow, odi davvero questo posto, non sarà per sempre così, Antonia, te lo prometto, spero di no, se dovessi preparare, un altro latte macchiato, potrei impassire, se è così, lascia perdere il tè, un latte macchiato, grazie, che amico, sorridi, malgrado le circostanze, Alicia, illumina sempre, la tua giornata, ah, un sorriso, proprio quello che volevo, grazie Alicia, non so cosa farei, senza di te, so io cosa farei, senza di te, morirei di fame, dove è il mio dolce, eccolo, mangia, e chiudi la bocca, con piacere, Alicia si infila, mezzo dolce in bocca, sfoderando un sorriso, a 32 denti, sei la peggior cliente, eppure sono la tua preferita, ora torna al lavoro, eh, volentieri, qualsiasi cosa, per allontanarmi da te, facciamo un audio così, dopo il turno, ti dirigi nello spogliatoio, per rimetterti, nei vestiti normali, questo è bello, perfect, ma proprio un vestito normale, mi dicono, se no c'è hot, non mi sembra molto hot, rosa però, cosa dici, lo facciamo normale, semplice, poi vedremo, anche questo non è che sia tanto normale, prendere questo qui hot, guardiamo il video, io questa parte ve la tagliata, finalmente posso respirare, tu ed Alicia camminate verso casa, lungo la strada, poco illuminata, sarà bellissimo, che cosa, oh, pronto, il ballo di corte, ah già, quello, ma non c'è frega niente, devo ammetterlo, il mio lavoro, ha i suoi vantaggi, primo fra tutti, vedere il castello, in tutto il suo splendore, le decorazioni, per il matrimonio reale, saranno mozzafiato, e mamma mia, il cibo, rischierei di farmi peccare, pur di rubarne un po', e a chi lo dice, non sembri molto entusiasta, perché dovrei esserlo, perché non dovresti, un ballo di corte, è entusiasmante, irrasmante, sì, se avessimo un invito, per partecipare, effettivamente, beh, è un giorno festivo, avrai il giorno libero, per fare cosa, tu lavorerai al castello, ma puoi goderti, il giorno libero, trovati un appuntamento, o esci con persone nuove, vedo il castello, dalla finestra, di camera mia, e so che qualsiasi cosa, succeda lassù, è meglio, delle nostre vite, quaggiù, esatto, hanno tutto lassù, l'hai detto tu stessa, vivono nel lusso, mentre noi, siamo bloccati quaggiù, a vivere le nostre vite, ordinarie, vedi, sapevo che avresti capito, credimi, lo capisco, ma devi realizzare, una cosa Antonia, se credi che la tua vita, faccia schifo, c'è solo una persona, che può cambiarla, credo di sapere, dove vuoi andare a parare, sei responsabile, di come vivi, lo so, lo so, davvero, è solo che ora, non so come sfuggire, a questa routine, lo so Antonia, ma cerca di non preoccuparti, credo che le cose, miglioreranno presto, come sei programmato, ricevi un messaggio, peschi il tuo telefono, dalla tasca, per controllare, mia madre, ciao tesoro, scusa se ti disturbo, potresti tornare a casa, ehi mamma, sono in giro con Alicia, può aspettare, chiedo di lei, temo di no, ho bisogno di te qui, va tutto bene, ti spiego quando sei qui, arriva presto, che palle quelli che non ti dicono le cose, arrivi a casa con l'ansia, che c'è, hai perso il sorriso, mia madre ha detto, che ha bisogno di me a casa, con urgenza, hai idea, di cosa si tratti, non proprio, ma un brutto presentimento, allora sbrigati, e tienimi aggiornata, capitolo completato, e non so se riusciamo a finirlo in questo video, magari farò delle due puntate, non lo so quanto dure, hai guadagnato 10 monete, rattoppiamo le monete, rattoppiamo le monete, tanto non vedrai, perché taglio sempre, hai guadagnato 20 monete, prossimo, abbiamo 170 monete, torni a casa in tempo record, mamma ti aspetta nel soggiorno, pant pant, mamma, ho fatto prima che potevo, cosa c'è, sto impazzendo, no, sua mamma è più giovane di lei, scusami, sfortunatamente, la notizia non migliorerà, non è facile dire tutto questo, sei paziente, sei impaziente, sei paziente, prenditi il tempo che ti serve, è difficile spiegarlo, perché so che tutto ciò ti farà male, qualsiasi cosa sia, la supereremo insieme, non preoccuparti, il problema, è che ho il cancro, guarda miseria, ma starei bene, vero, è vero, ma starei bene, vero, vorrei poterti dire di sì, ma non lo so, non è possibile, lo so, quanto è difficile per te, accettare tutto questo, mamma, non ne avevo idea, non volevo dirtelo, fino a che non fosse stato inevitabile, avresti dovuto dirmelo, avrei potuto fare qualcosa, le cure sono molto care, potrei fare più turni di lavoro, lavorerò di notte, prostituendomi, no scherzo, l'ho già detto io, sei molto dolce, ma no, non posso permettermi, non posso permetterlo, specialmente perché non sarebbe comunque abbastanza, ma, ancora spezzato, non posso stare a guardare, aspettare, che peggiori, lo so, non te lo chiederei mai, dimmi cosa devo fare, mamma, qualsiasi cosa, c'è una cosa che potresti fare, prima di tutto, dovresti sapere, che c'è un segreto nel nostro passato, mi piacciono i segreti, quando ero incinta di te, facevamo parte della corte reale, cosa, non capisco, non devi avere sangue nobile per farne parte, tuo padre era un duc, io sono nata lady, tuo padre ed io eravamo sposati, e vivevamo al castello di Ike Brides, Brides, come si dice, il castello abbandonato, esatto, non è sempre stato un derelitto, tuo padre è cresciuto lì, quando l'ho sposato, mi sono trasferita anche io, aspetta, quindi, vi siete conosciuti a corte, eravate il lord e lady, si sorpresa, perché arrabbiati, perché mi dovrei arrabbiare, si sorpresa, wow, non posso credere di non averlo mai saputo, non me lo sono mai sentita di dirtelo, perché no, dopo la morte di tuo padre, le cose si sono complicate, volevo lasciare quella parte delle nostre vite, nel passato, ma perché me lo chiede, ma è ora che tu sappia la verità, allora, cosa è successo, ci sono un sacco di cose che dovrei dirti, riguardo la morte di tuo padre, voglio sapere, venti monete, non mi importa, eh no, io voglio sapere, siamo qua, scusa, dimmi tutto, ok, devo tornare indietro al giorno del funerale di tuo padre, era il giorno del funerale di tuo padre, e pioveva ovviamente, non so se si vede, sono rimasta fuori dal castello con la regina, guardando l'amore della mia vita, che veniva seppellito, è un brutto giorno, quello in cui ci troviamo, infatti, grazie per essere venuta, sai che volevo molto bene a tuo marito, sono sempre stata sospettosa delle intenzioni della regina, la corte non sarà la stessa senza tuo marito, non posso credere che qualcuno lo abbia avvelenato, la corte può essere un posto pericoloso per un uomo come lui, un uomo come lui è la stessa cosa che ho pensato adesso, non voglio mancargli di rispetto, ma tuo marito veniva spesso considerato polemico, cosa intendi? sai cosa intendo, ha sfidato apertamente la corona, ha sempre incoraggiato i cittadini comuni, a chiederti più alla monarchia, era destinato a succedere, quando si è fatto nemici a corte, mio marito è stato assassinato a sangue freddo, e morirai anche tu, se non stai attenta, mamma mia, non posso credere che mi stia minacciando, ma a me sembrava un avvertimento, però, certo che no, una regina non minaccia, promette, dimmi cerchi sorella, scusa, che stile, promette, io ho sempre un genuino, a me sembrava un avvertimento, è molto bene, vabbè, come ho detto, il comportamento di sfida di tuo marito era controverso, dovresti mostrare, che non segui le sue orme, non sono una sciocca, so perché è qui, e sarebbe, amavi mio marito, volevi ciò che non potevi avere, oh mio Dio è beautiful, che notizia, che nozione ridicola, lo è, poi la regina ha iniziato a girarmi attorno, come un predatore che gioca con la sua preda, te lo giuro, potevo vedere la malvagità nei suoi occhi, campane, mi scuso se ti ho fatto sentire minacciata, non era mia intenzione, è solo che è una giornata difficile, difficile, per entrambe so dei tuoi sentimenti per mio marito, davvero, cosa sai, che gli hai proposto di sposarti, la notte prima, di fidanzarci ufficialmente, addirittura, credo non fosse l'unica persona, problematica a corte, beh, cosa sarebbe la corona, senza un po' di controversie, almeno nessuno può pensare che sia noiosa, è questo il motivo per cui hai avvelenato mio marito, per un po' di eccitamento nella tua vita, ah, ah, folle, credi che sia stata io, la regina non si sporca mai le mani, no, pagano qualcun altro per fare il loro lavoro, su su, sembra che la sua morte ti abbia fatto male al cervello, no, capisco perfettamente, so chi sei, ho passato fin troppo tempo in tua compagnia, so chi sei più di quanto tu pensi, so perché lo hai fatto, pensavi che non potendo avere mio marito, nessun altro poteva averlo, se non avessi appena assistito ad un funerale, riderei della tua stupidità, smetti di farmi passare per passa, so che sei stata tu, potrei dirlo a tutti, attenta, sono paziente, a causa delle circostanze, altrimenti ti farai arrestare dalle guardie, per avermi accusato di omicidio, inoltre, dove sono le prove, effettivamente, un giorno, sarai punita, forse un giorno, ma non oggi, la regina, se ne è andata compiaciuta, mentre la guardavo, senza poter fare nulla, e in quel momento, ho deciso, di abbandonare, la vita di corte, non posso stare qui, un minuto di più, devo trovare, un posto sicuro, mi sono grattata allo stomaco, e ho sentito, il tuo debole movimento, incinto, cosa, cosa vuol dire, ah, perché era incinta, ok, devo lasciare la corte, per il bene, della mia bambina, sniffa, wow, mamma, mi stai dicendo, che la regina, avrebbe avvelenato papà, il mio istinto, mi dice che è stata lei, ma non ho prove, questa è follia, senti, non sto cercando, di spaventarti, te lo sto dicendo, per una ragione, il punto è, che siamo ancora considerate, lady a corte, il castello di Highbride, ma non so come si dica, appartiene ancora a te, non lo so quello, anche il mio titolo, questo rende anche te, una lady, sembra un sogno, sembra una responsabilità, sembra un sogno, così dopo ci abbiamo i soldi, ho sempre voluto essere, una persona importante, se è importante, anche senza un titolo, oh, che cute, è anche più importante, con uno, ho sempre saputo, che era la vita, adatta a te, quindi, non capisco, perché mi stai dicendo questo, quando morirò, non voglio lasciarti, senza niente, non parlare così, andrà tutto bene, nulla è sicuro, nella vita, piccola mia, voglio essere sicura, che tu sia felice, credi che abbia bisogno, della vita di corte, per essere felice, certo che no, ma credo che, far parte della vita di corte, possa essere una cosa positiva per te, in che modo, soldi, soldi, vediamo, innanzitutto, incontrerai più persone, della tua età, sì, sarebbe bello, fare più amicizie, scoprirai abilità, che non sapevi di avere, in che senso, immagino, sarebbe bello, coltivare altri hobby, interessanti, voglio che tu, vada al ballo di corte, voglio che incontri il principe, e che competa, per la sua mano, sei seria, hai lavorato sodo, in questo bar per anni, meriti di più, ma vabbè, se il principe mi fa cagare, cioè, se non mi piace il principe, me lo devo sposare, solo perché è ricco, non è giusto, vabbè, insegnamenti delle app, ai bambini, questa opportunità, si è presentata ai tuoi piedi, credo che questa, possa essere, un nuovo inizio per te, immagino, sarebbe entusiasmante, certo che lo sarebbe, e conoscevo il principe, da quando era bambino, se è rimasto qualcosa, di come era bambino, sarai piacevolmente stupita, piacevolmente stupita, è una di quelle frasi, che usano le ledi di corte, assolutamente, sarà meglio, che ti abitui, ma mamma, e se non mi trovassi bene, ho sempre vissuto, come cittadina comune, e se non mi piacessi, al principe, non sto dicendo, di andare per trovarti un marito, ah ok, mamma, ho paura, ho paura, di ciò che potrebbe accadere, saresti pazza, a non averne, ma è ora, di prendere la vita, per le conno, hai ragione, lo farò, e via di pubblicità, io mi fermerei qui, in questo capitolo, e noi ci vediamo, con una prossima, puntata, domenica, questo, io adesso lo giro tutto, quindi poi dopo, ogni domenica, ce l'hai già fisso, e, finiamo la storia insieme, non so quanto duri, non so quante puntate, quindi, ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao, creatura,